E fatti dire da lei come sta. Poi scendi con questo piede, fai una passeggiata, scendi un po' più giù. E' giusto che la testa fa la perna. La testa? La testa? Veramente è il... Perché se lei sale è perfetta volta perfetta. Sono le braccia che tengono in realtà eh. Sì, sulle braccia. Fai tutto sulle braccia che è meglio. Ti fa fastidio con i piedi? Ok. E adesso...